voglio iniziare questo video esprimendo tutta la mia gratitudine ad ognuno di voi perché in questi mesi seppur con numeri non esattamente esponenziali il canale è cresciuto in maniera progressiva e credo che il merito maggiore sia da attribuire a te che condividi ciò che pubblico e che mi appoggi e che mi sostieni ho sempre dichiarato apertamente che non sono particolarmente interessato a diventare virale anche se dire che ne sarei dispiaciuto e qui varrebbe ad essere un ipocrita ma quello che mi interessa maggiormente è il poter dire la mia incondizionatamente esprimere il mio libero pensiero e portare o cercare di portare all'attenzione di quante più persone possibili quello che è il mio punto di vista ed è un orgoglio ma anche un sollievo lasciatevelo dire vedere che spesso le persone si rispecchiano in quel che penso e che il mio modo di pensare è condiviso da sempre più persone ovviamente non essendo portatore sano di verità assoluta non ho la pretesa che la mia sia la parola definitiva anzi sono costantemente in perenne quesito ma questo molto spesso mi aiuta a guardare le cose sotto molteplici punti di vista e probabilmente è proprio questo a fare la grande differenza a mio avviso ovviamente come hai avuto modo di vedere ho perfezionato il mio avatar tenendo il fiore di lotto sul palmo della manina e sostituendo quella bomba pronta ad esplodere dietro di me che seppur aveva un significato particolare non rappresentava a pieno il messaggio e il mio pensiero rivolto all'epoca in cui viviamo con una sveglia analogica che è decisamente molto più rappresentativa e immediata rispetto al messaggio che sono interessato a divulgare e con questo colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente il mio amico fulvio che ha realizzato graficamente l'avatar in maniera certosina secondo quelle che sono state le mie richieste chi mi segue avrà anche notato che ultimamente sto dedicando più tempo al cercare di portare alla luce fatti e storie di personaggi già ben noti soprattutto alle anime sveglie che però nonostante siano appunto spesso già trattati da tanti su diverse piattaforme online rimangono totalmente o quasi totalmente ignoti a moltissimi nello specifico su youtube ma il motivo è particolarmente semplice su questa piattaforma vige una censura che neppure nei campi di concentramento quindi l'altro argomento sai quello che ci riguarda da vicino in questa linea temporale dai sì la pandemenza ecco questo argomento è decisamente più trattato sul canale telegram a proposito seguimi su telegram e un ringraziamento specialissimo va proprio a chi si è unito al mio canale e partecipa attivamente attraverso le visualizzazioni i commenti le condivisioni e la chat vocale fino ad oggi ne abbiamo fatte due una di prova già qualche tempo fa e una più recente alla quale hanno partecipato pochi ma buoni come si suol dire e che mi ha riempito il cuoricino di gratitudine le anime si riconoscono tramite vibrazioni e in chat vocale con voi avverto le migliori vibrazioni possibili nonostante qualcuno preferisca la mia voce modificata questa è per te antonio ti mando un abbraccio ma c'è anche chi dice di preferire la mia voce normale e nonostante io in primis non sia d'accordo con quest'ultima affermazione non posso e non voglio certo esimermi dall'abbracciare virtualmente anche sonia silvia raffaella valeria marica cecilia ronin e tutti coloro con il quale ho avuto il privilegio di interagire in chat vocale quella sera perdonatemi ma anche se non eravamo centinaia non posso nominarvi tutti quanti in ogni caso e se ne avrete ancora piacere ne rifaremo sicuramente delle altre perché sentire le vostre voci le vostre esperienze le vostre visioni e punti di vista per me è un arricchimento spirituale incalcolabile fatta questa smielata quanto doverosa sviolinata andiamo a leggere alcune delle vostre mail perché in questo periodo me ne sono arrivate diverse qualcuna più interessante di altre ma comunque sempre molto sul pezzo qualcuna con suggerimenti che probabilmente seguirò qualcuna con critiche costruttive e opinioni rispettabilissime qualcuna inevitabilmente pregna di disprezio e insulti a mio avviso totalmente inappropriati al quale però credetemi do l'importanza che meritano ovvero in particolare oggi ne leggiamo una che ho ricevuto qualche tempo fa e che mi ha fatto letteralmente sussultare primo perché tocca un argomento a me molto caro che sono i win makers e poi perché prometteva del materiale semi inedito relativo al famoso sito ai shantarrow e ad altre peculiarità molto interessanti nello specifico un video che ritraeva il dottor enderson o neruda o insomma per come lo conosciamo noi che si addentrava appunto in quella che noi conosciamo come capsula temporale visionava le stanze i dipinti insomma come potrei immaginare mi sia addrizzato il pompon dall'emozione ma purtroppo beh piuttosto che raccontare tutta la storia faccio prima a leggerla ovviamente come da prassi e per correttezza l'utente rimarrà anonimo e comunque dice così qui posso spiegarti quello che avevo scritto nel messaggio riguardo al video non posso inviartelo perché lo tengo su cd ma dopo due volte che l'ho scaricato nel pc per due volte ho dovuto ricomprare la scheda madre e gli hard disk che si sono rotti bruciati secondo il tecnico a causa di un virus strano vero ma non credo che lo sia scaricai questo video circa 20 o 25 anni fa solo perché mi piacevano le figure gli strani artefatti e anche la storia di questo tipo se puoi fidati delle mie parole anche se vorrei molto che altri potessero vedere questo video ma credo che potrei essere seriamente in pericolo se lo divulgo i messaggi che mi sono arrivati sono forti e chiari e ad oggi fanno capire solo una cosa per qualcuno non siamo niente solo quattro ossa e un po di ciccia che camminano e che non hanno nessun diritto o valore e su questo amico mio sai quanto io sia in linea su questo pensiero anche se andiamo avanti adesso nel video che è di qualità amatoriale ma buona si vedeva il dottor rodrigo ramirez e su questo devo dirti che ho fatto una ricerca abbastanza approfondita ma il nome è talmente diffuso che non ne sono venuto a capo comunque dice archeologo e antropologo che viene ripreso mentre entra nella struttura l'entrata non è come raccontano di un buco trovato da un artefatto trovato da studenti eccetera ma si trova dentro le rovine della struttura in pietra che sta a ridosso e vicina alla parete rocciosa entra da una piccola porta dove cammina chinato e percorre circa 10 metri in un tunnel scavato nella roccia fino a sbucare in un atrio così come descritto anche nell'intervista che circola per illuminare gli ambienti hanno messo dei fari alogeni dall'atrio di forma al si passa allo spazio sempre di forma al dove vi è la porta della prima stanza e a circa un metro da essa una scala sempre in pietra di circa 7 8 gradini la rampa delle scale è di forma quadrata e su ogni pianerottolo ci sono gli ingressi per le due stanze nel video si vede ramirez vestito con una camicia chiara a maniche corte e pantaloni scuri alto circa 1,60 di un'età compresa tra i 40 e 45 anni che entra nelle stanze il pavimento non è lucido ma leggermente graffiato ma ben livellato meno che nelle stanze dove hanno dei leggeri rialzi come degli scadini a gradoni molto dolci nella prima stanza di forma rettangolare non nella parete frontale ma a sinistra dell'ingresso vi è il dipinto così come lo conosci di dimensioni 1,50 per 2 metri occupa il centro della parete ed è alloggiato in una specie di nicchia scavata nella roccia profonda circa 5 centimetri che fa da cornice dà l'impressione che il dipinto entri nella roccia qui vi erano due artefatti uno era come un dado con le facce a forma di pentagono e alcuni segni o scritte incise e un cristallo prismatico di colore celeste di circa 5 o 6 facce semi trasparente lungo circa 5 o 6 centimetri che aveva le estremità puntite ed erano riposti ai piedi del dipinto in apposite buche nella seconda stanza identica alla prima gli artefatti erano due sfere di cristallo perfettamente lucide e quando veniva tolta la luce erano fluorescenti in tutte le stanze vi sono i dipinti e due o tre artefatti o di pietra o di cristallo tutte le pareti sono molto levigate e di colore beige chiaro ma dovrei fare un inventario degli oggetti guardando il video perché non li ricordo tutti l'ultima stanza era quella che conteneva tre artefatti e il dipinto il dipinto come gli altri nella stanza principale gli artefatti in una stanza più piccola accessibile solo dalla principale dove c'è una sorta di scrivania o tavolo ricavato dalla roccia di forma tondeggiante nel quale in una piccola vaschetta vi sono gli artefatti un cd simile ai nostri ma in pietra con una patina dorata sopra e con un diametro più ampio dei nostri cd e un cristallo a prisma identico a quello della prima stanza ma molto più grande ora ramirez mentre faceva il tour spiegava che questo posto si trovava nel territorio del nuovo messico ma in un crocevia di confine con l'arizona e un altro stato e anche loro rivendicavano il diritto a studiarlo alla fine l'fbi gli ha comunicato che doveva abbandonare il posto e gli studi perché era diventato un luogo protetto e che per la sicurezza nazionale era inaccessibile a tutti il giorno dopo del video non gli hanno permesso l'accesso al sito archeologico ora se vai sul sito ovviamente qui lascio il link poi nella descrizione di questo video leggi bene cosa scrivono e lì potrai vedere le variazioni fatte al sito originale winmaker rispetto a quello di adesso gestito dalla labilint ltd strano vero grazie per la considerazione ciao beh che dire un grazie immenso amico mio e anche se come ti ho scritto privatamente sono rimasto un po deluso da non poter mettere le manine su questo video che pre gustavo con la colina in bocca hai avuto una grande capacità descrittiva e nel leggere le tue parole ho avuto proprio la capacità di essere all'interno di questo sito ovviamente sono corso a scandagliare il sito il sito che ha indicato e come dicevo prima appunto lo lascio nella descrizione del video in modo che tutti quanti quelli che sono interessati ad approfondire questo argomento possano andare a fare le loro ricerche personale e sono anche andato a verificare ciò che mi è iscritto riguardo al discorso del della labilint ltd ma non non ho trovato nessun riferimento non ho trovato nessun riscontro in ogni caso dopo aver aperto alcuni collegamenti che riportano al sito originale sì lo ricordo è esattamente il sito che avevo trovato all'inizio della mia ricerca quando ancora probabilmente non ero maturo e pronto per realizzare i video delle interviste che oltretutto sul sito originale non sono presenti o meglio sono presenti solo le prime due naturalmente chiedo il supporto di chiunque possa avere interesse ad aiutarmi nell'estrapolare più informazioni possibili scandagliate curiosate navigate tutto ciò che troverai e che ti sembrerà interessante per approfondire l'argomento mandalo a piccolobastardo11 chiocciolagmail.com insieme possiamo fare la differenza nel frattempo ti ricordo di lasciare un like a questo video se ti è piaciuto di iscriverti al canale se sei nuovo e gli argomenti che tratto ti affascinano e continua a guardare in alto pace e amore grazie a tutti